Buongiorno e benvenuti a tutti, questa è la rassegna stampa del mattino, occhio ai giornali con il commento alla stampa del giorno, oggi è sabato 25 settembre 2021, canale 17 di Fano TV che comincia con il Santo del Giorno, lo vediamo con il cartello, oggi è San Cleofa, il sole è sotto alle 6.58 e tramonterà un minuto dopo le 19. Dal sito della protezione civile delle Marche andiamo subito a dare uno sguardo al tempo per la giornata di oggi, cielo sereno poco nuvoloso con transito di nuvole nel corso del pomeriggio, velature o lievi stratificazioni, per la giornata di domani il maltempo comincia ad affacciarsi soprattutto in montagna, le temperature minime sono in ulteriore aumento, le massime senza valazione di rilievo ma è la giornata di lunedì che ci presenta una regione completamente interessata dal maltempo, rovescio temporali sparsi sui settori interni e centro settentrionali dove localmente risulteranno intensi, fenomeni più locali nel corso del pomeriggio, le temperature sono ovviamente in diminuzione, instabilità anche per la giornata di martedì seguita da un miglioramento delle condizioni meteo. Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, medici, allarme rosso, titolo d'apertura, carenze di organico al pronto soccorso di Pesaro, terzo avviso di Marche Nord per la ricerca urgente di personale, in sofferenza pure il 118, a Urbino a settembre per 15 giorni, equipaggio con autista ed infermiere. Centro pagina la messa in sicurezza delle facciate del Tribunale dove adesso è stato dato il via all'appalto, poi gli statali che tornano a lavorare in ufficio dal 15 ottobre, dunque addio allo smart working o almeno al suo uso prevalente per gli statali. Dal 15 ottobre i lavoratori pubblici torneranno in presenza e a fare da prepista saranno gli addetti agli sportelli. Ieri il Presidente del Consiglio Draghi ha firmato il decreto, nelle Marche un percorso di rientro era già stato impostato all'inizio di settembre ma ora si accelera. La prima pagina con le notizie in breve da Pesaro, patrono, la festa di San Terenzio, Coccia, richiami fedeli, no ai pregiudizi, poi da Urbino, multe in centro a due locali e a tre giovani e a Fano mezzo milione per erogare i buoni spesa. Sotto gol e ricordi, parliamo di calcio, la Serie C, la Vis sfida la Pistoiese contro gli ex Sassarini e Gennari. Il Carlino di Pesaro invece, andiamo a vedere subito la fotonotizia, multe di mezzanotte, Urbino stangata ai locali aperti nonostante l'ordinanza. E poi non vaccinati, gravi padre e figlio, uno ricoverato in terapia intensiva, l'altro 17 anni in subintensiva, la madre invece negativa. Il 33% dei positivi invece con la doppia dose, occhio, non è un dato negativo. Andategliolo a spiegare poi comunque a quelli che l'hanno preso nonostante il vaccino che è un dato non negativo. Operai introvabili, Papalini e i sindacati, dice ma dove sono finiti i disoccupati? E poi la stagione estiva, un'ottima estate almeno per gli alberghi pesaresi, ma adesso si domandano con tutte le incognite del caso che cosa si fa con gli eventi, insomma c'è incertezza. Poi la giornata campale degli automobilisti che sono transitati ieri sulla superstrada ai 78, tamponamenti e traffico in tilt per quattro ore. Di taglio basso invece lo sport, vissa, caccia del primo brindisi in casa. I biancorossi contro la pistoiese dei tanti ex, Cannavò torna e scalpita per una maglia. Poi il basket, VL Larsson con un tweet annuncia il sì alla VL, il play aveva firmato per i russi del Novo Gorod, poi la svolta che invece lo porterà a Pesaro. A Villa Fastigi invece, torniamo qui in alto, cittadella del pallone, iter burocratico finito, adesso è l'ora dei lavori. Poi sulla facciata di Palazzo Mosca, pianeta a rischio, ecco l'orgoglio che ci avverte. Allora, dopo dieci giorni di scuola, andiamo nella pagina del Corriere Adriatico, dopo dieci giorni di scuola 48 classi in quarantena. Varieranno i protocolli, il sottosegretario Sileri e la revisione delle misure nel caso di un positivo in aula, a casa solo il compagno di banco senza che vengano coinvolti tutti gli studenti. Direi che questo è un ottimo traguardo, ci è voluto un anno, ma insomma alla fine piano piano ce la faranno. Ciao ciao Smart Working, i dipendenti pubblici dal 15 tornano in presenza. Ieri la firma del decreto, la regione accorce i tempi dopo l'emendamento Brunetta. Si pensava ad un rientro scaglionato da qui alla fine dell'anno, invece ci sarà una accelerazione. E questo è l'articolo che troverete sul Corriere Adriatico. Poi sulla questione sollevata da Scavolini, Walter Scavolini, dell'omonima azienda, cioè che non si trovano operai, allora Confindustria si rivolge ai sindacati, questa mattina questa è la foto di Mauro Papalini, che è il presidente di Confindustria di Peso Urbino, il quale Papalini dice, ma poi disoccupati, dove sono finiti? Il presidente Papalini sulla vicenda della difficoltà di reperire operai, reddito di cittadinanza c'entra e come? E mi chiedo, si temeva un'ondata di persone senza lavoro, ma come mai non si candidano quando le imprese cercano personale? La pagina di Fano invece sui tamponamenti a catena di ieri, code e rallentamenti per ore, traffico in tilt in superstrada per una serie di incidenti, ira degli automobilisti, erano assenti le indicazioni per le uscite obbligate? E' vero, verissimo, non ci sono indicazioni, per esempio che l'uscita di Lucrezia andando verso Fossombrone è chiusa. Non ci sono indicazioni né a Bellocchi né a Fano, quindi effettivamente poi uno si accorge che deve uscire a Calcidelli quando ormai è lì incolonnato. Insomma, una vera e propria trappola. Qui c'è il racconto di tutta quella che è la... e anche alcune testimonianze raccolte appunto per descrivere quella che è stata una giornata difficile, ma che un po' lo è tutti i giorni. Chi prende quella strada sa benissimo che in certi orari con il doppio corsia alternato, con il senso unico alternato, insomma un po' difficile, con un'unica strada, con tutte quelle situazioni un po' complicato. Ci sono molti intoppi e rallentamenti quasi tutti i giorni. Cucurano, pulizie drastiche invece, animali e uccelli sdradicano tutto, un lettore contro il consorzio di Bonifica, mentre cedimenti sulla parete della Rocca, il Corriere. L'intervento urgente è ancora fermo. Il Comune cinque mesi fa aveva stanziato 100 mila euro. Ora via libera della sovrintendenza. Sono i danni causati dalla vegetazione. Poi i lavori, l'appalto per la scuola media Gandiglio, lavori con il 27% del ribasso. La cronaca, inseguito e immobilizzato dopo un'azione di spaccio, resta in carcere il quarantenne sorpreso con la droga nel cestino della bicicletta. Siamo sempre sulla cronaca di Fano. Poi da Senigallia invece, un intervento prodigio all'intestino, vetrina mondiale per l'ospedale. Il reparto di chirurgia si è distinto per la gestione di una occlusione causata da una rara forma di ernia. Dunque, un raro caso di occlusione intestinale ha portato all'ospedale Principe di Piemonte su uno dei più prestigiosi siti internazionali di chirurgia online. Nelle scorse settimane il reparto di chirurgia si è distinto per l'impeccabile gestione di un caso di occlusione intestinale determinata da una rara forma di ernia interna. E qui spiega appunto il primario di chirurgia Fabrizio Corinaldesi un po' come è avvenuto questo intervento. Poi l'allarme anche da Senigallia c'è poco personale, saltano i turni, stop a ferri e riposo per gli autisti del 118, i sindicati la situazione è grave anche per il pronto soccorso, radiologie, laboratori e analisi. Vedete quindi Senigallia, un po' come Pesaro, ha dei problemi molto evidenti, importanti per quanto riguarda il personale sanitario. La spiaggia di Velluto ora invece è in vendita online, un sacchetto di sabbia all'asta da 9,90 euro, quasi 10 euro. L'annuncio pubblicato da un tedesco sull'inserzione, adesso però si sta cercando di fare luce e soprattutto accertamenti da parte dei carabinieri forestali. Alluvione, il Comune si costituisce parte civile, l'udienza preminale è fissata per il 29 settembre al Tribunale dell'Aquila. Poi sotto addio a Sabrina Trasatti, fatale una malattia rara, aveva 42 anni, ha abitato a Ripe di Trecastelli e deceduta nell'ospedale di Fossombroni, funerali oggi alle 10.30 ad Acqualagna. E poi, sempre da Senigallia, ha donato un aspiratore chirurgico, beneficenza all'ospedale da parte dell'Associazione Carabinieri di Arcevia. Pronti i 12 alloggi popolari, invece l'Erap fa l'impresa attiva, siamo a Colli al Metauro, immobili comprati a buon prezzo, dopo un fallimento, e poi completati. 8 sono stati già consegnati, quindi 8 famiglie che risiedono a Calcinelli, Colli al Metauro, che già possono entrare. Gli appartamenti sono 12, quindi ce ne sono quelli realizzati 12, ce ne sono altri 4 dislocati in queste palazzine, quindi presto verranno assegnati. Intanto andiamo sulla... ecco, anche qui vedete la superstrada, 6 incidenti, 2 ore di caos, traffico bloccato dalle 18, per un primo scontro all'altezza del cantiere. Poi, qui di fianco, la foto del campione Giuliano Costantini, che ha vinto la medaglia d'oro, medaglia d'oro e d'argento, il Master italiani degli over 70. Costantini adesso partecipa alle gare europee. A Urbino, invece, continua a tenere banco la questione dell'ordinanza del Sindaco Gambini, che vieta agli esercenti di tenere aperti i locali dopo la mezzanotte. E allora, il titolo dal Carlino di oggi, multati i locali aperti dopo la mezzanotte, quindi, insomma, sono già stati multati, i controlli di Polizia Municipale Carabinieri hanno dato subito i frutti, due segnalazioni e sanzioni da 400 euro. Dal 16 settembre, nel centro di Urbino, c'è questa ordinanza di Gambini di chiudere i locali entro le 24, dal giovedì al sabato. Durerà un mese, ma qualcuno, come abbiamo visto, questa ordinanza l'ha già violata. È il caso di due kebab del centro, che giovedì sera sono stati controllati dal nucleo Interforza, quindi Polizia Carabinieri e Polizia Locale, che svolge servizio di ordine nelle giornate di giovedì sera. Gli agenti, insomma, hanno sanzionato, multato, insomma, anche alcune persone. Insomma, ci sono delle multe che non sono neanche poche, perché sono 400 euro. Però c'è questo dialogo aperto, si legge qua, e può darsi che questa ordinanza di chiusura alle 24 sarà solo per il giovedì. Giovedì, per chi vive Urbino, sa benissimo che è la giornata degli studenti, insomma, dove ci sono iniziative, e quindi, diciamo, è la giornata un po' più delicata, da questo punto di vista, degli schiamazzi, movida fuori controllo. Andiamo sulla pagina di Ancona, invece, sempre dal Carlino. Sacerdote, muore mentre mangia a pranzo. Don Elio Lucchetti, di San Cosme Damiano, di Santi Cosme Damiano, era insieme a Don Alessio e Don Iosè. Aveva 82 anni. Per i giovani era un faro. La cerimonia funebre, presieduta da Monsignor Angelo Spina, arcivesco di Ancona Osimo, si svolgerà oggi pomeriggio alle 14, nella cattedrale di San Ciriaco, quindi ad Ancona. La tumulazione poi nella tomba di famiglia Polverigi. È morto mentre mangiava con altri due sacerdoti. A una certa età, purtroppo, può succedere. E questa tragedia è avvenuta, appunto, è avvenuta nella giornata di ieri. Era nato ad Ancona 82 anni fa, il 14 di luglio. E adesso lo sport. Due pagine veloci. La prima che riguarda il Fano. L'incontro che ci sarà domani a Pineto contro il Castelnuovo. Sarà sicuro una battaglia. Domenica sono stato costretto, dice Antezza, a soffrire in tribuna. Ma la squadra contro la Vastese mi è piaciuta. Ora conterai su di me. Mentre la Vispesero, Vispistoiese, gole ricordi contro Sassarini e Gennari alle 17.30. Al Benelli la sfida con i Toscani guidati dai due ex biancorossi. E con questo chiudiamo qui la nostra selezione di pagine della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Buon fine settimana a tutti. Ci rivediamo lunedì mattina, come sempre, alle 7. Arrivederci. a tutti. Buon fine settimana a tutti. Buon fine settimana a tutti.